Su tutto il diaframma. Adesso dobbiamo aggiungere un'altra cosa che diventerà pesante il discorso. Abba, presa di fiato, riesci ad arrivare davanti e dietro cagata, pisciata? Sì. Lo fai? Sì. Non mi sembra che tu lo faccia. Una volta che senti tirare gli addomini in davanti e arrivi dietro lì, allora poi tieni il diaframma. Non è, è diverso. La tua pierezza, la tua pierezza, sopra scontar. La tua pierezza, sopra scontar. Spercronale. Spercronale. Grazie a tutti.